L'attività di recupero dei libri dell'ex ospedale di Maggiano rientra nella nuova edizione del concorso Progetto Art Bonus dell'Anno. L'iniziativa intende premiare i migliori interventi finanziati attraverso il credito d'imposta, introdotto in Italia dal ministro Franceschini, quale sostegno al mecenatismo culturale. L'intervento di restauro dei libri, portato avanti con il progetto Fondo Unico della Biblioteca Giovanni Battista Giordano, Libri Sott'Acqua, è stato reso possibile grazie al generoso contributo di tanti donatori che hanno permesso la raccolta fondi sulla piattaforma Eppela. I volumi recuperati sono 3.500 libri, il più antico è del 1.700 e i titoli comprendono ben 200 riviste italiane e straniere, spesso introvabili. Per questo intervento la Fondazione Tobino ha ottenuto l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana. Per votare il progetto ci sarà tempo fino al 21 marzo. La premiazione avrà luogo venerdì 15 aprile nel corso di un evento pubblico organizzato dal Ministero della Cultura, Ale Spa e Promopa Fondazione Lubec, i 30 promotori del concorso.